Ci sono dei comitatini che sono in grado di opporsi in sede giudiziaria a queste porcherie, di scalare piattaforme, di andare in piazza. Sono comitatini vivaci. Io credo che questo signore che si fregia di essere un grande comunicatore, offendendo la dignità delle persone, abbia commesso un errore stupido. Perché io sono contento che questo signore mi certifichi come comitatino. Sono un tipo deciso e quindi me ne ricorderò dell'atteggiamento di una persona che intende rappresentarmi con questo tipo di disgustosa ipocrisia. Non puoi andare a New York impomatato e poi venire qui a chiamarmi comitatino. Non lo puoi fare. Dopo quello che abbiamo fatto in Sicilia con gli amici UEF, Legambiente e tanti altri, Anci Sicilia ha chiesto ai comuni siciliani di adottare una delibera esattamente che chieda al Presidente della Regione di opporsi a questo famoso articolo 38. E lì bisognerà contarsi, bisognerà capire. Io ci sto a mettere sul sito di Greenpeace la lista con i nomi e le facce dei parlamentari che questa porcata l'hanno votata. È il mio ruolo. Io questo devo fare. Devo mettere a disposizione dei cittadini informazioni. Quindi io ci sto. Ciao a tutti. Grazie a tutti.